Quasi 2 milioni di euro in arrivo in provincia di Sondrio sul bando regionale itinerari. Dei 10 milioni assegnati, più di 1.750.000 sono destinati a sostenere progetti e interventi di manutenzione straordinaria, realizzazione di nuovi tratti della rete escursionistica, della rete viaria di servizio alle attività agrosilvopastorali e di percorsi ciclopedionali e ciclabili sul territorio valtellinese. Il bando di cui è stata approvata la graduatoria è iniziativa dell'assessorato a montagne e piccoli comuni. Regione Lombardia, afferma l'assessore Massimo Sertori, sostiene questi progetti con l'obiettivo di incrementare l'attrattività dei territori montani attraverso lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, con ricadute positive sul rilancio dell'economia locale. Si tratta di risorse, aggiunge, utili alla promozione e alla valorizzazione del territorio montano. La presentazione di 161 domande per un valore di circa 50 milioni di euro dimostra che abbiamo intercettato una reale esigenza dei territori, per cui lavoreremo per cercare di mettere a disposizione, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale, ulteriori risorse per finanziare gli interventi ammessi ma non finanziati. Nel dettaglio, i progetti finanziati in provincia sono 5, 623 mila euro al comune di Fusine per i lavori di riqualificazione del sentiero transorobico, che riguarda anche Cedrasco, Foppolo, Colorina e Forcola. A Faedo 445 mila euro per la realizzazione e riqualificazione del sentiero del pane e del vino tra Faedo e Piateda. La comunità montana di Sondrio riceverà 253 mila euro per il progetto itinerari d'alta quota tra laghi e passi alpini lungo il sentiero Italia. Il comune di Torre Santa Maria ha ottenuto 280 mila euro per la realizzazione e riqualificazione del collegamento del sentiero Valtellina, la riserva piramidi di Postalesio-Arcoglio e il canale di Torre di Santa Maria-Retica-Malenca. Infine, al comune di Gerola Alta sono stati assegnati 412 mila euro per la manutenzione straordinaria dei sentieri escursionistici di completamento e collegamento alla rete mandamentale interprovinciale.